Hey! It's me, Mario! Ok, adesso lo smetto, magari. Ciao a tutti, sono Erika e oggi voglio fare la top 10 del 2015 perché quest'anno, cioè l'anno scorso in realtà, perché siamo nel 2016 mi devo ancora abituare a questa cosa bruttissima e bellissima allo stesso tempo. Comunque, ho letto un sacco di libri stupendi l'anno scorso ed è stato alquanto difficile scegliere solo 10 libri per farli entrare in questa lista e premetto che ovviamente non saranno libri messi in ordine tipo dal più bello al più brutto, dal più brutto al più bello o dal medio all'ultimo, dall'ultimo al primo o sì, vabbè, avete capito perché sì, non avevo voglia e non riuscivo a decidere quale fosse il libro migliore e quale il peggiore che poi non era il peggiore ma era l'ultimo dei migliori ma... ah, e tra l'altro ci saranno altri due libri per cui li ho inseriti lo stesso nella lista almeno credo che siano due o uno, due libri in più perché sono magari di uno stesso autore oppure di uno stesso genere rispetto a un altro libro magari che vi propongo in questa lista e quindi, non so, ci centravano non potevo non menzionarli almeno un minimo e sì, vabbè, comunque capirete man mano sto facendo un sacco di robe complicate non ci capisco più niente neanche io quindi direi che ora iniziamo! dato che non sono stata in grado di stilare una vera e propria classifica andrò in ordine cronologico il primo libro di cui vi parlo che ho letto gennaio dell'anno scorso quindi praticamente un anno fa esatto è Il Paese dei Poveri di Ivano Mingotti di questo autore ho letto anche Celeste 1872 intorno ad agosto se non mi ricordo male devo dire che nonostante Ivano sia un autore molto giovane comunque si è dato davvero tanto da fare perché ha fatto un sacco di lavori per quanto riguarda il campo dell'editoria della scrittura, della traduzione ha scritto un sacco di libri nonostante abbia, come ho detto, una giovane età finora tutte le opere che io ho letto, sue mi hanno lasciato comunque qualcosa perché è vero, all'inizio soprattutto con Il Paese dei Poveri non capivo bene perché è un romanzo un pochino complesso ma non nella trama ma più che altro dal punto di vista della narrazione lo stile di scrittura è piuttosto particolare andatevi a vedere il video che avevo fatto l'anno scorso per capire bene che cosa intendo perché ci vorrebbe troppo spiegarvi tutto di nuovo però lì per lì quando finite il romanzo rimanete tipo oh mio Dio cosa ho letto e non sapete se siete stupiti oppure cosa perché è il caos più totale nella vostra testa però vi assicuro che dopo mesi ci continuerete a pensare e se io un anno dopo sto ancora pensando alla trama di quel libro e soprattutto al modo in cui era scritto mi ha lasciato delle sensazioni che altri libri non avrebbero saputo lasciarmi quindi ve lo consiglio assolutamente tra l'altro a breve devo recensire un altro suo libro per cui sono veramente curiosa di leggerlo e non vedo l'ora il secondo libro che metto in questa lista è La storia infinita di Michael Land e che cosa vi posso dire se non che io da sempre ho amato il film che hanno tratto da questo libro e il libro l'ho amato ancora cento volte e anche più del film e già solo questo vi dovrebbe abbassare per andare immediatamente in libreria a comprarvi il libro e a leggerlo ma se ancora non vi basta magari state pensando e ma sono troppo piccolo e ma sono troppo grande per leggere no vi sbagliate perché questo libro lo possono leggere sia i bambini che gli adulti perché i bambini leggeranno una parte del libro e capiranno delle cose mentre gli adulti ne capiranno altre e quindi assolutamente dobbiamo leggerlo secondo me questo libro che dovrebbero leggere tutti e insieme a tutti i libri Michael Land quindi vedete di leggerlo passiamo ora all'Accademia del Bene e del Male di Soman Shenani a parte che la cover di questo libro è stupenda ma poi è un fantasy davvero molto bello che in teoria dovrebbe essere per bambini però io che sono più grande in realtà l'ho amato lo stesso e credo che potrebbe piacere a chiunque perché è assolutamente tanto scorrevole e stupendo e accadono un sacco di cose ispirate al mondo delle fiabe e se volete saperne di più e si dovreste saperne di più perché è veramente stupendo andate a vedervi la mia recensione che ho fatto sempre l'anno scorso perché è un video un po' random perché sono libri di cui vi ho già parlato praticamente a parte quelli del mese di dicembre di cui vi devo ancora fare il drop up però diciamo che questo è il big repilogo e niente quindi se vi interessa qualche libro in particolare vi lascio in qualche modo il link per il video in cui ne ho parlato poi abbiamo due opere di Shakespeare Romeo e Giulietta che vabbè questo lo sapevate già perché io sono monotona e ripetitiva e l'altro che invece ancora non sapete perché devo ancora girare come ho detto prima il video delle letture di dicembre è Amleto e sì in realtà sono più legata a Romeo e Giulietta perché comunque l'ho letto da più tempo quindi è già da tanto che l'ho metabolizzato diciamo poi ho visto anche altre versioni letto storielle e cose del genere su questa storia per cui ci sono un pochino più affezionata e oltretutto l'ho anche studiato a scuola quindi capisco meglio quello che ho letto mentre invece di Amleto non abbiamo mai parlato a scuola quindi l'ho letto totalmente da sola e senza indizi però mi è piaciuto e vabbè ovviamente c'è un motivo se nella lista della BBC dei 100 libri da leggere prima di morire ovviamente ma dettagli e ci sono state le parti che un pochino mi hanno lasciato un po' non so se mi è piaciuto veramente oppure no mentre altre mi sono piaciute davvero tanto ci sono degli spunti di riflessione che ho trovato soprattutto in Amleto per cui vale veramente la pena leggere sia Amleto che Romeo e Giulietta e ovviamente veniamo a una saga che non poteva mancare in questa top 10 dato che l'ho letta quest'anno se non sapete ancora di che cosa sto parlando vuol dire che dovete recuperarmi un po' di video tipo di un anno e mezzo fa ovviamente sto parlando di Harry Potter e in particolare dell'Ordine della Fenice che è il mio libro assolutamente preferito della saga è strano perché di solito tutti hanno dei dubbi sul decidere quale sia il loro libro preferito della saga però io non ho assolutamente dubbi e lo capisco semplicemente dal fatto che questo libro è il più grande della saga ed è stato quello che io ho letto in meno tempo tipo in un giorno e mezzo e mi sono immedesimata come non mai nel personaggio di Harry e anche degli altri e in particolare forse non so perché era un periodo in cui ero particolarmente contro il mondo o chissà per quale motivo ma ero in una fase diciamo di rabbia e di ribellione e mi rispecchiavo perfettamente in questo personaggio e quindi questo sarà uno dei miei libri preferiti per sempre tipo poi come non nominare George Orwell con la fattoria degli animali e io ho sempre voluto leggere qualcosa di George Orwell da quando ho iniziato ad interessarmi al genere distopico e finalmente ci sono riuscita mi rendo conto che è un libro veramente piccolo per cui potete dire ma perché non l'ho letto prima ma perché ero stupida e perché non l'avevo ancora trovato e devo assolutamente recuperare 1984 che vi posso dire di questo libro a parte che è assolutamente da leggere perché fa riflettere riguarda dei maiali che diventano padroni di una fattoria e alla fine finiscono per diventare umani e sì forse così non si capisce niente ma dovreste saperlo perché dovete conoscere questo libro e se non lo conoscete leggetelo perché è importante poi Uno nessuno centomila di Luigi Pirandello che probabilmente è diventato il mio scrittore italiano preferito e sì vabbè io non leggo molti autori italiani in realtà però diciamo che ho proprio voglia di leggere le opere di Pirandello e ormai ho letto praticamente tutte le sue opere più importanti perché io adesso ho scelto questa però in realtà quest'anno in particolare ho letto anche il fumatti a pascala anche se in realtà l'ho ascoltato perché ho usato l'audiobook ma dettagli e io adoro quest'autore e fa un sacco di ragionamenti complessi contorti filosofici ma che mi rispecchiano perfettamente perché io sono così sono molto contorta molto strana e chi mi conosce lo sa ma anyway dovete assolutamente leggerlo perché vi manda in paranoia e in crisi e non saprete più che cosa fare della vostra vita però vale la pena di leggerlo di scombustolarsi un attimo le idee perché riguarda la crisi di identità di una persona che potrebbe essere tranquillamente chiunque e sì quindi leggetelo vi prego come come non parlare poi del piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry oh mio dio non riuscirò mai a pronunciarlo nella maniera corretta comunque non credo neanche di dover dire qualcosa su questo libricino minuscolo che probabilmente avrete già letto quando eravate bambini se non l'avete riletto quando siete diventati un pochino più grandi celli vi consiglio di farlo perché ci sono un sacco di significati diciamo nascosti o un pochino più complicati e maturi da scoprire all'interno di questo libro che è piccolo ma dà veramente tanto e io l'ho letto metà in francese metà l'ho ascoltato in italiano in audiobook ho dei ricordi legati a questo libro e ha segnato molto il mio 2015 per cui ve lo consiglio assolutamente veniamo ora a due libri che sono di due tori diversi e trattano in parte cose differenti ma per me sono strettamente correlati sia perché li ho letti nello stesso periodo sia perché riguardano comunque lo studio e cose del genere il primo è di Dylan e Brian gli esami non finiscono mai e si è un po' difficile ricordarsi questi titoli lunghissimi in questo libro si parla principalmente di tecniche di memoria e brevemente di lettura veloce l'ho trovato molto interessante molto scorrevole e può tornare veramente utile in alcuni casi soprattutto se volete imparare a imparare le parole tipo in fila vi danno una lista di parole e dovete impararle tutte in ordine ed è veramente molto utile per il resto se vi interessa l'argomento ci sono un sacco di cose online che potete trovare ed è davvero affascinante come cose da studiare il secondo di Gabriele Weiner come imparare qualsiasi lingua il metodo smart è un librone abbastanza grande e l'ultima parte probabilmente non serve a molto a meno che non vi piaccia usare le flashcard però la prima parte per chi studia lingue o è interessato allo studio delle lingue è davvero molto interessante ci sono un sacco di aneddoti e cose curiose e l'ho trovato utile anche questo per cui ve lo consiglio e quindi questi due libri in teoria erano divisi ma potrebbero essere considerati anche da leggere uniti secondo me anche se io li ho trovati in due posti diversi però ve li consiglio assolutamente e infine l'ultimo libro di questa lista perché è stato uno degli ultimi libri che ho letto a dicembre 2015 è La locandiera di Carlo Goldoni che io ho studiato a scuola nella prima parte di quest'anno scolastico e la professoressa di italiano ha deciso di darcelo da leggere diciamo per il periodo delle vacanze o comunque dalla fine del trimestre e che dire è una commedia molto scorrevole da leggere molto veloce lo lette in tipo tre ore ed è anche molto divertente soprattutto perché quando tu studi una cosa a scuola non ti aspetti che possa essere divertente di solito perché in genere si è abituati soprattutto quando si inizia la prima parte della letteratura a leggere cose un pochino noiose perché il linguaggio è difficile invece in questo libro che in realtà è un'opera teatrale il linguaggio è abbastanza simile a quello dell'italiano odierno comunque e come ho detto molto scorrevole e ho provato abbastanza odio per la protagonista ovvero Milandolina che vuole a qualsiasi costo riuscire a fare innamorare tutte le persone della sua locanda e in particolare una delle sue vittime più agognate è il cavaliere di Ripa Pratta non vi dico altro perché comunque vi rovinerei un'opera teatrale che è veramente corta e che dovreste andare a vedere a teatro perché ovviamente è così che si gustano meglio le opere teatrali non leggendole e vi consiglio anche di ascoltare l'audiobook perché a me ha aiutato molto con i personaggi per riuscire a ricordarmi bene o male le varie caratteristiche soprattutto perché comunque è vero che non ci sono tanti personaggi come nelle opere di Shakespeare però è comunque difficile immaginarsi tanti personaggi che non sono neanche riscritti è un'opera importante soprattutto per il suo ruolo nella letteratura però come ho detto intrattiene anche molto per cui ve la consiglio assolutamente e questo era tutto per questa top 10 spero che non sia venuto un video troppo lungo però immagino di sì perché erano tanti libri e fatemi sapere voi che libri avete letto quest'anno che avete apprezzato particolarmente lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video andatevi a vedere i video vecchi se non li avete ancora visti e siete incuriositi dai libri di cui vi ho parlato in questo video e noi ci vediamo nel prossimo video ciao